Partiti prima corsa in programma sulla distanza dei metri 1.200. Francolin si porta a condurre nei confronti di Appunto con in terza posizione Didi Chanel e Proustock. Due coppie distinte dopo i primi 300 metri di gara con il battistrada Francolin affiancato da Appunto. Francolin a Punto Didi Chanel che ha all'interno Proustock. Cavalli che iniziano la piegata che i mette in dirittura con Francolin. Al suo esterno si mantiene a Punto numero 1 dello schieramento con l'altra coppia all'inseguimento formata da Didi Chanel e Proustock. Cavalli in dirittura dove Francolin mantiene lo steccato nei confronti di Appunto che passa con facilità. Appunto che vede il traguardo ai 100 conclusivi, appunto facile a condurre. Ed è appunto che ai 50 dal palo stacca definitivamente per affrontare in canter il debutto nei confronti di Francolin del numero 6 Proustock. E al quarto posto il numero 2 Didi Chanel. Si attende l'ordine ufficiale. Facile quindi l'affermazione per il debutante a Punto con Antonello Fadda in sella che ha la meglio su Francolin che si adegua al secondo posto con Gavino Sanna.